Alla Lidl da giovedì 5 ottobre. Potente idropulitrice con pressione massima di 170 bar, una portata di 500 litri l'ora e 2400 watt di potenza. Sistema di avvio e arresto automatico a risparmio energetico. In dotazione impugnatura della pistola lancia o gelo standard, fresa turbo, spazzola rotante per lavaggio, raccordo per l'acqua con filtro, 10 metri di tubo flessibile, bottiglia di detergente da 500 millilitri a 149 euro, 3 anni di garanzia. Lava pavimenti da esterni per idropulitrice, adatta a una pressione massima di 180 bar e una temperatura di alimentazione massima di 60 gradi a 29 euro e 99. Levigatrice a disco posizionabile sia in verticale che in orizzontale, battuta parallela mobile con angolo regolabile da meno 10 gradi a più 50 gradi e piano di lavoro inclinabile. In dotazione 6 foglie di carta abrasiva da 125 millimetri di diametro, battuta angolare, morsa e adattatore, incluso riduttore per aspirazione esterna a 34 euro e 99. 7 riparazione per pavimenti laminato e parquet o per piastrelle. In dotazione fonditore, 11 colori a cera, spugnetta abrasiva, panno di pulizia, due spatole, raschietto, batterie a 11 euro e 99. Data logger clima, intervallo di misurazione da meno 30 a 70 gradi, intervalle di misurazione e registrazione regolabili da 10 secondi a 24 ore, batterie e supporto a parete con materiale per il montaggio. Esportazione dei dati in formato pdf o come file excel a 22 euro e 99. Fonometro con intervallo di misurazione da 30 a 130 decibel e indicazione digitale in decibel, due tasse di misurazione regolabili, veloce e lento, a 11 euro e 99. Torcia led multifunzione o faretto led, 6500 gradi kelvin, batterie incluse, a 4 euro e 99. Cavalletto di supporto, robusta costruzione in acciaio, ripiani per pezzi di lavorazione estraibili e regolabili in altezza, con rotelle e battuta, altezza del telaio 78 cm, carico massimo 150 kg a 69 euro. Set meccanica di precisione, a scelta tra 7 cacciaviti a cricchetto, 7 coltelli di precisione, 7 chiavi o cacciaviti per meccanica di precisione, a 4 euro e 99.